Sarò brevissima, però mi corre l'obbligo, devo ringraziare il professore Campanella, perché la manifestazione nasce su sue indicazioni. Nel momento in cui lui mi ha detto, facciamo i vestri a Tridetti, io sono rimasta un po', sono stata pure scontrosa, perché pensavo la strada è brutta, li porto là sotto, invitiamo questo, invitiamo quello, e là c'è la terra, e che figure ci facciamo, eppure oggi ho imparato una cosa, perché questi tre mesi mi hanno insegnato tante cose e molte cose me le ha insegnate il professore, ho capito una cosa, che anche se le cose non sono perfette, ma facciamole lo stesso. Stasera mi sembra che ci siamo divertiti, è stata una bella serata, grazie a tutti voi. Il sindaco mi vuole far emozionare, so di aver preso all'età di 73 anni suonati questa bicicletta e quindi cercherò di pedalare con le mie forze. Grazie, c'è ora un momento conviviale e poi ci avvieremo verso le nostre case.